Il giovane di Cividale del Friuli perde la vita in un incidente stradale in Lumbria dove studiava veterinaria. È un noto polentaro di Gemona la vittima del sinistro di ieri sera ad Artegna. Lutto anche nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Giulio Giustiniani. L'aumento del prezzo di energia, materie prime e la scarsità di foraggi porteranno alla chiusura di altre stalle. L'allarme è dell'associazione allevatore del Friuli Venezia Giulia. Dalla regione un sostegno per i costi della macerazione d'urgenza. Il sindacato dei Vigili del Fuoco con Apo all'attacco dopo che la notte scorsa per una ricerca persone a Malborghetto è stato attivato solo il soccorso alpino. I due escursionisti ritrovati sani e salvi al vivacco Corsi. Questa mattina malore per un trentenne sul Monte Amariana. Lo storico treno Arlecchino ha portato oggi centinaia di persone a San Daniele per la kermesse dedicata al prosciutto crudo punta di diamante dell'enogastronomia fiulana. Anche noi tra gli stand per accogliere le voci di turisti e operatori. Il successo di Monza ha permesso all'udinese di rompere il ghiaccio. Adesso due grandi per proseguire il percorso di crescita dal mercato potrebbe arrivare nelle ultime ore e zibue. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati in diretta a questa edizione serale delle nostre OTG. Un'edizione che apriamo con un'ampia pagina di cronaca nera perché purtroppo ci sono stati due gravi incidenti stradali nelle ultime ore costati la vita a un giovane 25enne di Cividale del Friuli che ha perso la vita in un incidente avvenuto in Umbria dove si trovava per motivi di studio e poi l'incidente di ieri sera sulla Pontebana ad Artegna dove è morto un 60 centenne di gemona del Friuli. Allora facciamo il punto nel primo servizio di Giulia Soligon. Altra notte di incidenti la scorsa a perdere la vita sulle strade dell'Umbria è stato Jonathan Bardus 25enne di Cividale del Friuli ma residente a Perugia dove studiava veterinaria. Il giovane era in auto con altre tre persone tra cui un bimbo di 7 anni quando in Alto Tevere a San Giustino località Selcilama tra via Tifernate e via Fratelli Roselli ha impattato con un'altra vettura. Vani soccorsi per il ragazzo e le altre persone a bordo sono state trasportate in ospedale per ferite lievi. Soccorso anche il conducente dell'altra auto, un giovane della zona sulla dinamica dell'incidente stanno ora indagando i carabinieri e tra le ipotesi finora sollevate anche quella di una mancata precedenza. Grande dolore anche per la comunità gemonese e della pedemontana che piangono la scomparsa di Ciro Baldissera, 67enne di Gemona del Friuli, rimasto vittima di un altro incidente avvenuto nella serata scorsa lungo la strada statale 13 Ponte Bana nel comune di Artegna. L'auto che Baldissera guidava si sarebbe ribaltata filindo la sua corsa a lato della strada. A intervenire sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre l'uomo e una seconda persona a bordo intrappolate tra le lamiere accartocciate della macchina. Vali soccorsi per il conducente dell'auto l'altra persona rimasta gravemente ferita è stata trasportata all'ospedale di Udine. La scomparsa del gemonese Baldissera lascia nel dolore l'intera comunità dove era molto conosciuto per la sua attività di polentaro e sempre disponibile nelle iniziative sociali e di volontariato. Sempre per quanto riguarda la cronaca agli incidenti stradali appena arrivata in redazione la notizia di un incidente stradale avvenuto ad Aviano e alla guida dell'auto che ha causato questo in incidente stradale un militare della base USAF che avrebbe effettuato una manovra di sorpasso in un tratto con linea continua in via Pedemontana occidentale colpendo un sedicenne che viaggiava in sella alla sua bicicletta. L'incidente si è concluso con il trasporto con l'elisoccorso della persona ferita in ospedale a Udine in codice giallo. Le condizioni quindi del ferito sono serie ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La patente del militare è stata ritirata, la prova dell'etilometro ha dato esito negativo. Ed è lutto nel mondo del giornalismo e non solo per la scomparsa di Giulio Giustiniani, in passato direttore del Gazzettino, vice direttore del Corriere della Sera e del Tg di La Sette. Era nato a Firenze il 25 luglio del 1952 ed era sposato con Elisabetta Nonino, figlia di Benito e Gianola con la quale aveva avuto tre figlie e mancato a seguito di una malattia. L'aumento dei costi energetici e delle materie prime pesa anche sul comparto zootecnico. La situazione è tragica, ha detto oggi il presidente dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, Renzo Livoni, in occasione della tradizionale festa degli allevatori in Malga a Montasio. Attualmente in Regione ci sono poco più di 500 aziende zootecniche in attività. Vent'anni fa gli allevamenti di mucche da latte in Friuli erano più di 10 mila e la crisi non è ancora conclusa. Sentiamo. Io trovandomi a essere presidente di un'associazione non posso che constatare con amarezza questa spirale che porta alla chiusura delle stalle. In un contesto del genere adesso abbiamo toccato veramente la punta dell'iceberg. Tante sono anche adesso in via di dismissione. Purtroppo c'è questa congiuntura economica per cui a fronte di un prezzo che ha toccato un livello inimmaginabile fino a tre mesi fa abbiamo avuto però un costo per quanto riguarda i prodotti energetici tipo il gasolio e anche l'energia elettrica che è schizzata a prezzi fuori da ogni logica. Non parliamo poi del periodo siccitoso che si è avverato quest'estate portando a una mancanza enorme soprattutto dei foraggi quindi una situazione veramente vorrei dire tragica. Io credo che insomma ci voglia una grande alleanza di questo Friuli, di questa gente, degli allevatori per sostenere il primario. Credo che il momento di crisi come è sempre successo nella storia si è ripartiti con un grande impulso sulle attività agricole che si chiamano primario per questo e quindi la regione in questo ha fatto molto in questi anni, è stata vicina, ha cercato di accorciare le filiere, ha dato investimenti a sostegno, ha dato ristori. Stiamo facendo uno sforzo straordinario, c'era un'esigenza sulla macellazione d'urgenza che all'inizio veniva ristorata da parte delle province, poi dopo che le province sono state chiuse in maniera improvvida il costo della macellazione d'urgenza ricadeva sull'elevatore, cioè l'elevatore perdeva il capo di bestiame più doveva anche pagarne i costi di macellazione. Con un intervento fatto in ultima finanziaria la regione ha dato un contributo alla regione allevatori perché ristori di questi costi gli allevatori del Fulenzio Giulia. Una misura quella del sostegno ai costi di macellazione d'urgenza dei capi di bestiame che per quest'anno prevede un budget di 50 mila euro ma che nel prossimo triennio sarà implementata per soddisfare il maggior numero di domande possibili. Adesso parliamo ancora di rincari, il Kodakons ha fatto i conti nelle tasche degli italiani per i quali ci sarà un ritorno, un rientro dalle ferie piuttosto amaro. Sentiamo. Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro quest'anno a causa degli aumenti di prezzi e tariffe che stanno per abbattersi sugli italiani e che determineranno una vera e propria stangata ad autunno sulle tasche dei consumatori in media pari a più 711 euro annui a famiglia tra settembre e novembre. Lo denuncia il Kodakons che ha calcolato le spese che dovranno affrontare gli italiani di ritorno dalle vacanze estive. Non va meglio per PMI che operano nei servizi in arrivo per i prossimi mesi c'è una maxibolletta da 11 miliardi, afferma Confesercenti, in assenza di interventi che per l'associazione deve prendere il governo in carica altrimenti si rischia una stangata insostenibile. La prima voce di spesa che interesserà le famiglie sarà quella alimentare. Rientrati dalle ferie è necessario infatti riempire il frigorifero andando incontro a incrementi medi dei prezzi delle 10% su base annua. Un nucleo di 4 persone si ritrova così quest'anno a spendere in media 172 euro per i primi rifornimenti alimentari post vacanze con una maggiore spesa di circa 16 euro rispetto al 2021. Il governo monitora l'emergenza rincari soprattutto sul fronte gas e lavora a pancia a terra. La linea telefonica tra il premier Draghi, il sottosegretario Garofoli e i ministri Franco e Cingolani, i due più impegnati sul provvedimento atteso a settembre, è bollente ma fonti di governo spiegano alla DN Kronos che i tempi sono prematuri per un intervento già la prossima settimana come chiesto a gran voce da più forze politiche in pressing anche per via della campagna elettorale. Sicuramente probabilmente nella giornata di martedì si terrà una riunione per fare il punto ma è arduo pensare, si legge in una nota della DN Kronos, un intervento già nei prossimi giorni. Non ci sono i tempi tecnici per far di conto. Bisogna attendere il gettito fiscale di agosto, capire a quanto ammonta l'extra per rifinanziare le misure di sostegno in scadenza come il taglio delle accise sui carburanti e intanto continuare a cercare risorse aggiuntive anche tra le pieghe di bilancio. Sono tante le ipotesi sul campo per fermare la corsa dei prezzi che assilla famiglie e imprese ma ciascuna ha un costo e va valutata trovando le coperture perché sullo scostamento di bilancio la linea a Palazzo Chigi è ferma e non si sposterà di un millimetro. Non ci sarà dunque, secondo le fonti appunto citate dalla DN Kronos, uno scostamento di bilancio. Oltre a rifinanziare le misure in scadenza con l'extra gettito di agosto, l'intervento che per ora viene dato per scontato sul fronte imprese è quello di intervenire ancora una volta nel modo più incisivo possibile sul credito d'imposta e assicurare alle aziende due pacchetti di energia calmierati di produzione nazionale che allevino i costi agevolando le produzioni. Intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un messaggio diffuso nella giornata di oggi ha minacciato un aumento importante dei prezzi del gas che in Europa ha detto Medvedev su un post su canale Telegram raggiungeranno entro la fine dell'anno i 5.000 euro per mille metri cubi, ora sono a 3.500. E tra le ipotesi per far fronte al caro energia c'è anche quello di ridurre la settimana scolastica e quindi chiudere le scuole il sabato. Contro il caro gas il sabato tutti in DAD no dei sindacati. Da quello che sappiamo non sarà possibile che le scuole attivino la DAD autonomamente sia per i malati covid sia per i lungodegenti a casa dicono i presidi che invece appunto dicono che si potrebbe attuare una settimana corta. Per i sindacati, dai sindacati un nonetto, la CISL dice no alla DAD per il caro energia, per la UIL sarebbe una follia semmai meno termosifoni in Parlamento, dice la UIL. E intanto le scuole si preparano per la ripresa dell'anno scolastico, per gli esami di riparazione in particolare, esami che interesseranno uno studente su 5. Vediamo. Per quasi uno studente su 5 delle scuole superiori è arrivato il momento di affrontare gli esami di riparazione. In questi giorni infatti le scuole hanno fissato la data degli esami di recupero che consisteranno in un compito in classe o in un'interrogazione e che dovranno concludersi prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado che quest'anno devono recuperare almeno un'insufficienza sono il 18,3% in aumento rispetto allo scorso anno quando erano stati il 17,3%. A giugno sono stati promossi il 75,5% contro il 76% dell'anno precedente. Le scuole per aiutare i ragazzi con giudizio sospeso a studiare le materie che devono recuperare hanno attivato in estate una serie di corsi della durata di circa 15 ore per ciascuna materia. All'esame il voto finale viene deciso dal consiglio di classe. Sebbene con il nuovo anno scolastico le mascherine a scuola non siano più obbligatorie, molti istituti hanno scelto comunque di far indossare in classe ai propri alunni almeno la mascherina chirurgica anche nell'ambito degli esami di riparazione. Il ministro della salute Roberto Speranza ha chiarito che alla partenza del nuovo anno scolastico sicuramente le mascherine non saranno obbligatorie, poi si valuterà il quadro epidemiologico passo dopo passo. L'auspicio ha continuato e che si possa utilizzare il tema della raccomandazione e della responsabilità individuale rispetto all'obbligo. Il ministero dell'istruzione ha inviato alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto, la diffusione del covid in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Il testo sintetizza i documenti elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità nelle scorse settimane. Per le persone positive rientro a scuola e subordinato all'esito negativo del test molecolare o antigenico non fai da te, ma per gli alunni positivi appunto non sarà attivata la didattica a distanza. Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle istituzioni scolastiche, niente più obbligo di mascherina, ma il dispositivo sanitario potrà essere comunque usato da chiunque su base volontaria. Chi presenta sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 verrà ospitato in una stanza dedicata e nel caso di contatti con casi positivi non sono previste misure speciali. E intanto sono 17.647 i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nel nostro paese, su un totale di circa 118.000 tamponi. Il tasso di positività è al 15% in aumento rispetto a ieri, che era il 13,8.000, le vittime sono 41.000, 229 i pazienti in terapia intensiva, due in più, 5.628 quelli ricoverati nei reparti ordinari, 40 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono scesi sotto le 680.000 unità. I dati dell'ultimo bollettino regionale riferiscono di 357 nuovi casi a fronte di poco meno di 3.000 tamponi, con un indice di positività del 12,13%. Si registrano due vittime, una in provincia di Trieste e l'altra in provincia di Pordenone. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, stabili le terapie intensive con 5 pazienti covid, 161 i ricoverati negli altri reparti, 6 in più rispetto alla giornata di ieri. E mentre continuano gli interventi di soccorso in montagna, torna a riaccendersi la polemica tra i vigili del fuoco e il nucleo del soccorso alpino, per ruoli e competenze nelle operazioni. Necessario un soccorso congiunto tra professionisti e volontari, afferma il sindacato CONAPO, il sindacato dei vigili del fuoco. Sentiamo Giulia Soligoni. Ma l'ora ad alta quota, un escursionista di 30 anni, residente nel Tolmezzino, è stato soccorso questa mattina durante la salita al Monte Amariana, nel comune di Amaro. Il giovane era caduto in seguito a un mancamento, subendo qualche contusione. Sono stati i compagni di escursione ad allertare i soccorsi, i quali una volta giunti sul posto, hanno imbarellato l'infortunato, portandolo lungo il sentiero fino alla strada dove a prenderlo in carico c'era un'ambulanza. A intervenire, oltre ai soccorritori della stazione di Forni a Voltri, anche la Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. E nel pomeriggio di oggi sono stati trovati anche i due alpinisti di nazionalità slovena, un uomo del 1971 e una donna del 1987, i quali erano partiti dal rifugio Pellarini per andare a scalare la cima del vallone, ma senza fare più ritorno. Scattate le ricerche che hanno impegnato i vigili del fuoco di Udine e Tolmezzo e il personale del soccorso alpino, i due sono stati trovati presso il bivacco Corsi, dove si erano rifugiati per ripararsi da un temporale. Ed è proprio tra il corpo dei vigili del fuoco e il soccorso alpino che divampa nuovamente la polemica in merito alle competenze e ai ruoli negli interventi delle località montane, già aperta con il caso del recupero dell'escursionista di Pescara, disperso e poi ritrovato. Auspichiamo un soccorso congiunto tra vigili del fuoco, professionisti e volontari, in modo da garantire il migliore servizio per il cittadino. Dichiarano dal sindacato autonomo dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, Damian Nascini, segretario regionale, e il vice segretario Cristian Busolini. Tuttavia continuano, siamo a constatare, che qualcuno pensa di fornire un eccellente servizio di soccorso, escludendo i vigili del fuoco. Speriamo che le autorità competenti vogliano mettere in atto azioni, al fine di raggiungere l'obiettivo di un soccorso pubblico, in cui vengano coinvolte tutte le risorse in campo. È tornato a percorrere le ferrovie e i binari del Friuli Venezia Giulia, il treno storico Arlecchino, che questa mattina ha svolto un servizio speciale, da Trieste a Gemona, per aria di Friuli Venezia Giulia, la manifestazione dedicata al prosciutto di San Daniele, in corso in questi giorni. I passeggeri tanti sono saliti lungo il percorso da Trieste fino a Gemona, poi hanno proseguito il tragitto con un bus e navetta fino a San Daniele del Friuli. Andiamo a sentire le voci che ha raccolto per noi Monica Nardini. Noi siamo un po' amanti del vero viere, dei treni storici, tutto quanto, però molta gente è interessata a queste cose. Questo può essere un viaggio, un sviluppo, infatti siamo messi che se un'altra volta dovessero fare un altro giro in qualche parte, compatibilmente con i tempi, insomma, però può essere un'occasione per venire a vedere, o tornare a Udino, oppure andare a Trieste, a Bortenone, insomma, i vari posti, insomma, dove passa il treno, insomma, e unire varie cose. Da Milano appositamente per questo viaggio? Pensavamo anche di vedere dei prosciutti frici San Daniele di produzione, poi invece ha visto una bella festa, abbiamo visto, è stato bello lo stesso. Lei non è originario del Friuli? Assolutamente no, sono Calabrese d'origine, ma vivo qua ormai da 15 anni. Come mai ha scelto oggi di essere qui sull'Arlecchino? Perché sono un appassionato di treni storici e quindi quando ci sono queste manifestazioni partecipiamo sempre. Anche lei oggi ha approfittato del connubio con anche la manifestazionaria di Friuli Venezia Giulia. Com'è andata dunque? Cosa ne pensa di questa iniziativa? Allora, è andata benissimo, siete bravissimi, spingiamo in questa direzione perché la gente ha bisogno di divertirsi. La prima volta per lei sull'Arlecchino? Eh sì, anche perché è la prima volta che viene in zona, quindi è stata una piacevole visita. Cosa l'ha colpita di più di questo treno? Beh, allora, il treno, questo treno è del 60, quindi vedere certe cose che già si potevano fare nel 60 e che forse sono perse, diciamo, nel tempo, è stato veramente un piacere. Tutto il treno è poi stato ristrutturato molto, molto bene. Che cosa l'ha colpisce di più di questo treno? La storicità. Proprio il treno stesso che ha fatto storia sia qua in Italia ma anche a livello mondiale. È bellissimo, è bellissimo, è una cosa che non si vede più, ovviamente, è un salto nel passato. Hai salito sull'Arlecchino appositamente per questo treno e anche per la manifestazione a San Daniele del Friuli? Esattamente. Quindi il connubio com'è andato? Perfetto. Che cosa vi ha soddisfatto di più? Dio, la giornata bella e quindi ha promesso bene ed è riuscito molto bene. L'hai un ricordo legato a questo treno? Abbiamo viaggiato su treni ancora più vecchi di questi. Comunque, restaurato perfettamente. Complimenti anche alle ferrovie e chi ha partecipato. Veniamo a sentire anche le parole di Claudio Calvelli della Fondazione FS Italiane, proprio sul treno Arlecchino. Lo storico treno Arlecchino sta per partire dalla stazione di Udine. Insomma, una grande emozione. Sold out i posti disponibili? Assolutamente sì. 170 posti per questo evento Area di Friuli Venezia Giulio in collaborazione con la Regione e con Trenitalia. Fondazione Ferrovie dello Stato Italiano è presente insieme a tutto il gruppo FS per rilanciare la stagione di treni storici anche nel 2023. Cosa possiamo dire rispetto all'Arlecchino, alla sua gloriosa storia? Allora, sono quattro vetture, ognuno di un colore diverso. È un treno costruito negli anni 60 per il rilancio dell'economia e del turismo del bel paese. Abbiamo con il gruppo Ferrovie dello Stato ristrutturato un esemplare con un percorso storico filologico e la ricostruzione fedele di quella che è stata la storia gloriosa di questo convoglio. Oltre ad incrementare le performance del treno con l'installazione di un sofisticato sistema di controllo marciadreno che permette la maggiore qualità del viaggio. È l'unico esemplare esistente in Italia? Sì, c'è il fratello Maggiore che è in ristrutturazione, l'Arlecchino di Sette Elementi, con la carrozza ristorante e poi ci sono altri convogli che faranno parte della flotta a alta velocità e dedicata a un turismo di lusso e di prossimità del gruppo Ferrovie dello Stato. È l'unico e ci sarà la possibilità anche di visitarlo per chi non ha trovato posto comunque in questo viaggio a Gemona. Due ore a disposizione con il personale della Fondazione Ferrovie dello Stato italiano che illustrerà le carrozze e la storia di questo treno che vede nel bel vedere, in questo avvineristico prua e poppa dal punto di vista navale, un concetto completamente diverso mettendo il cliente al centro del viaggio. Adesso andiamo a San Daniele, andiamo tra gli stand di aria di Friuli Venezia Giulia a sentire le voci di chi appunto si è recato a San Daniele per degustare il famoso prosciutto. Lei è un affettatore, quanto effetto ha affettato finora? Come sta andando questa manifestazione? Sta andando molto bene, il tempo ci sta aiutando, la gente sta arrivando, sta prezzando il nostro prodotto. Stiamo avendo un'aria di Friuli Venezia Giulia molto 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 buona, di un livello molto alto, i nostri prodotti, perché qui non parliamo solo di prosciutto, ma parliamo anche di Montasio, parliamo dei nostri vini, stanno riscuotendo un ottimo successo con tutti i nostri visitatori, i nostri amici. Che impressione ha delle presenze turistiche? Guardi, abbiamo rivisto tantissimi stranieri, tantissime persone che arrivano dal Veneto, quindi la festa sta riprendendo piede, sta ridecollando, abbiamo bisogno di questi momenti, rivederci, guardare un attimino le persone in viso, lo sguardo è importante, abbiamo avuto due anni difficili, quindi è una ripartenza. Per noi come Alpino sta andando abbastanza bene, anche perché noi non abbiamo l'esigenza di fare business, anche perché quello che riusciamo a tirar fuori, levato quello che spenderemo per il mantenimento della Casa del Trecento, che il Comune ci ha dato in dotazione per la nostra sede, il resto va tutto in beneficenza, nelle scuole, asili, dove ci chiamano. Come sta andando? Bene, siamo partiti in treno da Udine, anche voi? col treno storico, con l'Arlecchino, da dove arrivate? Da Trieste. Da Trieste appositamente per questa manifestazione? Per questa manifestazione, sì. Avete già mandato? State terminando? State terminando, adesso faremo un giro, comunque insomma, bello, divertente, ci voleva, dai. Bello, bello, è stato bello, buono il prosciutto, bellissimo tutto. È bello, bello il Friuli, bellissimo, è un bel territorio di tutto, anche il paesetto, i paesetti, i paesaggi, tutto. Lei signora, che cosa più l'ha colpita? Il prosciutto. Io sono fatta solo per il prosciutto. Ben organizzato, veramente, la prima volta che io vengo qua da Mestre, veramente bene. Cosa ha assaggiato delle bontà locale? Il prosciutto in prima persona, poi il resto, altre cose, insomma, i formaggi, eccetera. Milano ci aspetta là? Poi siete andati un po' alla scoperta del territorio, Andretta, anche in questione? Adesso andiamo, adesso andiamo. Adesso parliamo di un'altra manifestazione, quella in programma dal 2 al 4 settembre a Valvasone, che ritornerà per un fine settimana ai tempi del Medioevo, una manifestazione che quest'anno compie 30 anni. Vediamo. Tre giorni di festa, immersi nella storia, e in un intero paese calato in una realtà con taverne, botteghe, giochi tradizionali e sbandieratori. Dal 2 al 4 settembre, ritorna il Medioevo a Valvasone, giunto alla sua trentesima edizione. Una manifestazione ormai famosa a livello nazionale, che coinvolge 800 volontari, e quest'anno punta le 30.000 presenze in un fine settimana. La prima novità, quella più importante, è quella che riusciremo a ripetere una proposta che avevamo fatto ancora due anni fa, e dopo a causa del Covid non siamo più riusciti a ripetere, ovvero quella di iniziare da sabato a mezzogiorno. Quindi le famiglie, tutti gli appassionati, possono venire già da sabato a mezzogiorno, e passare il pranzo in una delle nostre nove taverne. Queste nove taverne hanno dei piatti tipici, totalmente differenziati l'uno dall'altro, quindi possono fare questo tipo di esperienza. Oltre a mangiare, chiaramente, e riempire la pancia, che è un classico del pranzo, è quella che possono vivere l'esperienza anche dal primo pomeriggio, quindi ci saranno già presenti spettacoli e attrazioni nel primo pomeriggio del sabato, fino a continuare, andare fino al trance, fino al sabato sera e alla domenica tutto il giorno. L'anno scorso abbiamo avuto circa 20.000 presenze, e il nostro obiettivo è quello di tornare magari come un paio di anni fa, quindi il pre-covid, di raggiungere oltre le 30.000 presenze nel giro di tre giorni. Noi partiamo con un slancio, con un'apertura straordinaria a partire dal sabato pomeriggio, riconfermato il venerdì, e anche la domenica per l'intera giornata. E poi tanti appuntamenti dedicati alle famiglie, in particolare ai bambini. C'è una cosa bellissima che deve essere provata da parte dei bambini, che è l'assalto al castello, in cui verranno attrezzati, armati, con quello che è il vestiario tipico dell'epoca medievale, e faranno l'assalto al castello. Chi difenderà il castello? I loro genitori. Sarà una sfida fino all'ultimo colpo. E a proposito di sfide, apriamo la nostra pagina sportiva parlando di Udinese, che dopo la prima vittoria di questa stagione, venerdì contro il Monza, guarda già la prossima sfida di campionato, quella che la vedrà di fronte, alla Fiorentina, mercoledì, con Pereira, che in attesa dell'arrivo di un esterno di ruolo, potrebbe giocare ancora in fascia, come accaduto appunto venerdì sera. Ci aggiorna Alessandro Sursa, nel prossimo servizio. La gara contro il Monza ha rappresentato un primo vero e proprio punto di svolta per l'Udinese. Per tanti motivi, il primo, il più banale, è arrivata la vittoria. Quella vittoria che non era arrivata nelle prime due giornate contro Milan e Salernitana, vuoi per errori, per sviste, sfortuna, e ho anche bravura degli avversari. Quella vittoria che però serviva come il pane, per evitare discorsi che altrimenti sì, sarebbero stati piuttosto amari. il successo quindi è arrivato, ma abbiamo parlato di svolta anche per un secondo motivo, si è rivista. Una squadra, una squadra coesa, unita, compatta, che non si abbatte alla prima difficoltà e non era facile restare a galla dopo lo schiaffo di Colpani alla trentaduesimo che sapeva tanto di Beffa, visto che per i primi trenta minuti il gioco l'aveva comandato. L'Udinese non era facile, ma la banda sottile non solo non ha smesso di giocare, ma anzi ha reagito subito trovando il pareggio. Con Beto, ed eccolo qui, il terzo motivo della svolta, torna il portoghese, segna, e l'Udinese vince, coincidenze. Io non credo, adesso non c'è nemmeno il tempo per godersi il successo, che già mercoledì arriverà alla Dacia Arena, alla Fiorentina, e poi domenica, sempre in Friuli. Sbarcherà la Roma di Jose Mourinho, due gare che si possono affrontare con la serenità, di non avere la vittoria come unico risultato, ma con la consapevolezza che i bianconeri se la possono giocare, e come? provando, perché no, a regalarsi altri punti, che farebbero ovviamente bene a tutto l'ambiente. In tutto questo, senza Perez, che dovrà scontare l'ultimo turno di squalifica, e con il sostituto di Sopì, che ancora non è arrivato, è probabile che sulla corsia a destra, giochi ancora il Tuku Pereira, che a Monza ha ricoperto quel ruolo, undici anni dopo l'ultima volta, e lo ha fatto, logicamente bene, perché i grandi giocatori sono così, dove li metti? Stanno? A proposito del sostituto di Sopì, Kingsley e Zibue, è sempre un obiettivo dell'Udinese, e da qui, alla fine del mercato, potrebbe davvero diventare bianconero. Ed è finita 2-1 per il Pordenone, l'ultima amichevole prestagionale, quella disfruttata questo pomeriggio, ad Azzano Decimo, contro l'Arzignano Valchiampo, una vittoria importante e convincente, arrivata contro un avversario di livello, che il Pordenone affronterà, proprio nel girone A di Serie C, che comincerà il prossimo weekend, con il Pordenone, che affronterà in trasferta, la Triestina contro l'Arzignano, la vittoria è arrivata, grazie alle reti di Burrai, su calcio di rigore, al dodicesimo del primo tempo, e di Delia al minuto 41. Nella ripresa, al novantesimo, gli avversari hanno accorciato le distanze, con un gol di Unciama. Il calcio sarà il protagonista, anche della nostra prima serata, con l'appuntamento della domenica, con l'altra domenica. Noi ci fermiamo qui, per il momento, vi ricordo quindi la prossima diretta, alle 21.15, questa sera conduce Stefano Giovanni, Giovanni Giovanni Pietro, e in collegamento ci sarà anche Gigi De Canio. È tutto, grazie per la vostra attenzione, e buona serata. Un saluto e ben ritrovati, ad un nuovo appuntamento con Trebineti, o amici di Udinese TV, ci attende un avvio della nuova settimana, con una situazione meteo un po' più tranquilla. Dunque, un lunedì con tempo stabile, assolato sul Friuli Venezia Giulia, nel corso del pomeriggio, locali disturbi saranno comunque possibili, principalmente su Alpi e Prealpi. Uno sguardo più in dettaglio, e ora cosa ci attenderà su Pordenone e Udine? Tempo in prevalenza, stabile, assolato. Qualche locale rovescio sarà in possibile formazione, nel corso del pomeriggio, limitatamente ad Alpi e Prealpi, come anticipavo, ma si tratta di fenomeni isolati di breve durata, clima caldo tipico del periodo, con punte massime attorno ai 30-32 gradi, clima freschino, invece, nella notte e al mattino. Uno sguardo più in dettaglio, cosa ci attenderà su Gorizze e Trieste? Medesima situazione, dunque, ampi spazi di sereno, qui bassa probabilità di precipitazioni, il tutto con clima caldo, picchi massimi di 30-31 gradi, valori minimi, invece, contenuti non superiori ai 20-21 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località, sempre sulla nostra app gratuita Trebi Meteo. Grazie.